La lettera della Meloni ai dirigenti di Fratelli d'Italia è stata molto chiara, ha detto dovete capire il percorso che il partito sta facendo e chi non l'ha capito è fuori dalla porta. Cosa ha detto? Assolutamente basta con le nostalgie del fascismo, con queste scene macchiettistiche, le ha chiamate, di chi alza il braccio, di chi fa dei canti fuori dal tempo. Ovviamente alla sinistra non è bastato, ma questo non è una notizia e d'altronde il messaggio della Meloni non era tanto alla sinistra, ma era ovviamente ai suoi, al partito che deve accompagnare la crescita della Meloni e non ostacolarla. E poi soprattutto a tutto quel elettorato moderato che sta votando da un paio d'anni in massa direi, al partito della Meloni e che si aspettava questa uscita. Perché se tu vuoi fare il partito conservatore poi devi avere anche nei gradi più bassi, più giovani del partito, chi rispecchi queste immagini. Quindi che la sinistra non gli basti non è una notizia, l'importante è se, e io penso di sì, basterà all'elettorato moderato e ovviamente quanto poi questo messaggio sarà seguito dalla base e portato avanti con coerenza dai pratici.